Giovedì 11 aprile la Carmen Martorana Eventi presenta Miss Mondo Italia presso il Bypass di San Michele di Bari. Due eventi, alle ore 18, l'happy hour con la selezione delle Miss e alle 21 tutti a cena con Mr. Mondo Italia Fabio Rondinelli per assistere alla finale interprovinciale di Miss Mondo Italia Tour 2013. Vi aspettiamo giovedì 11 aprile al Bypass di San Michele di Bari. Info e prenotazioni Bypass 345 64 22 740. Media Partner della serata Radio Made in Italy.